Profico incontro all'Istituto Sciascia Scoglitti tra la dirigente Giuseppina Spataro, consiglieri comunali Totimicoli e Agata Iacquez e il presidente al vittorio al rugby Paolo Fuggetta. Dall'incontro è nata in pratica l'idea di portare questa disciplina sportiva tra i giovanissimi della frazione, per cui la stessa dirigente scolastica, entusiasta dell'iniziativa, si è detta pronta ad affiliare la scuola alla federazione rugby e lavorerà anche alla preparazione di una giornata dedicata proprio a promuovere il rugby. Già pronte intanto le squadre dello Sciascia che parteciperanno al campionato provinciale Under 12, 10 e 8 con la formazione di squadre miste. Per quanto riguarda poi la preparazione, si ilvolgerà nell'attigo Campandolina con la presenza di altri bambini inseriti nel progetto CONI-Aria-Ragazzi e segnalati dalle strutture sociali della delegazione del comune. Da questo connubio prenderà poi il via anche un progetto PON che porterà i bambini dello Sciascia a praticare nel periodo estivo anche il beach rugby sulle spiagge del litorale.